Sì, ovviamente intervengo in difformità rispetto alla dichiarazione di voto della consigliera collega Agnello che si voleva stenere, del consigliere Coglia che voterà contrario e del consigliere Terranova che non parteciperà al voto. Io invece la voterò ovviamente questa mozione, la voterò anche alla luce della nota dell'Oref che lei ha appena letto, non riscontro criticità riguardo il fatto che nella mozione sia citata l'ipotesi di una Costituzione, di una Commissione, ipotesi che qualora venisse portata avanti comunque porterà un atto che bisognerà votare in aula, quindi i consiglieri capitolini, tutti i colleghi potranno in quella sede votare liberamente se costituire o meno un eventuale anche perché si parla di ipotesi della mozione, Commissione di indagine riguardo i debiti fuori bilancio e quindi consegno il mio voto favorevole, la ringrazio Presidente.